In tedesco, le parole composte sono difficili da pronunciare, soprattutto quando sono formate da più di due parole. A complicare le cose ci si mette anche l'articolo. Infatti, nelle parole composte, si usa l'articolo maschile, femminile e neutro, tenendo in considerazione solo l'ultima parola. Vi faccio un esempio. La zuppa di patate, di kartoffel zuppe. Patata, kartoffel, zuppa, zuppe. Questo sostantivo è femminile, quindi si usa l'articolo di. La chiave della porta. La casa è un nome neutro, das Haus. La porta è un nome femminile, di tu ha. La chiave in tedesco è un nome maschile, der schlussel. Quindi per dire la chiave della porta, si usa l'articolo der, der Haus zu hagelussel. Il biciere di birra, das Bierglas. Birra, bira, biciere, glass. Il biciere, das glass. Quindi il biciere di birra, das Bierglas, si usa l'articolo das. Caffè, anche in tedesco è un nome maschile e quindi si usa l'articolo dea. Il caffè, dea caffè. Tazza, anche in tedesco è un nome femminile e quindi si usa l'articolo di. La tazza di tasse. E quindi per dire la tazza da caffè, di caffè tasse. La professione, il mestiere, dea beruf. La formazione, l'addestramento, il tirocinio, di ausbildung. La formazione professionale, di berufsausbildung. La libertà, di freiheit. Il pensiero, dea gedanke. La libertà di pensiero, dea freiheit's gedanke. Il professore, dea professor. L'università, di universität. Il professore universitario, dea universität's professor. L'attesa, di vat. La stanza, das zimma. La sala d'attesa, da svat zimma. Ora facciamo attenzione a questa parola composta da quattro nomi. La campagna elettorale. Dea waltkampf. Il costo, i costi, i rimborsi. Di kosten. Il rimborso. Di das gesetz. Per non fare errori, pronunciamo questa parola immaginando che sia divisa in due. Das waltkampfkosten. Alcuni nomi composti presentano una S all'interno delle parole che li compongono. Questa S è semplicemente una lettera di congiunzione. Viene inserita alla fine di una parola presente in un nome composto quando tale parola finisce in ing. Quando la parola di un nome composto finisce in e, spesso si aggiunge la n tra le due parole. Però in alcuni casi la e viene tolta. Grazie a tutti.